È la data del primo tavolo tecnico, 17 gennaio, data fatidica per la Speedline, primo appuntamento che dovrà trovare il piano industriale sostenibile per il mantenimento degli oltre 600 lavoratori diretti e dei 200 dell'indotto dello stabilimento dei cerchioni in lega per auto dei grandi marchi del lusso. Nonostante gli annunci, è ancora presto per cantare vittoria. La partita non è assolutamente finita, il calcio iniziale se restiamo nella metafora calcistica sarà dato lunedì ma è un percorso molto in salita, molto complicato e non lo diciamo perché siamo pessimisti, anzi. La delocalizzazione non è ancora del tutto scongiurata, tanti dubbi e le preoccupazioni per una decisione che potrebbe subire nuovi cambiamenti, a ribadirlo è il sindacato della FIOM. Quello che più ci preoccupa è che così come è stata revocata la decisione, in tempi velocissimi potrebbe essere nuovamente rimessa in campo. L'amministratore delegato del gruppo Ronald ha esplicitamente detto che per loro la decisione della chiusura è l'unica possibile, quello che ci preoccupa è proprio trovare invece gli strumenti per convincerli a restare. Non a caso il presidio fuori lo stabilimento di Tabina proseguirà ad oltranza. Dobbiamo controllare che in effetti l'accordo che è stato raggiunto per lasciare uscire il prodotto finito in effetti vada a finire alle case automobilistiche che sono nostri clienti e non in qualche magazzino strano ad aumentare le scorte della Ronal. Speedline è la punta dell'iceberg di una crisi per il mercato auto e dell'automotive a livello nazionale. Nel solo mese di novembre in Italia si è registrato un calo delle immatricolazioni del 25%. La transizione dell'auto potrebbe portare a una perdita di posti di lavoro di circa 50.000 addetti. Questo ovviamente se non si riesce ad intervenire e quindi se il governo continua sulla strada del non intervento nel settore. Parte anche da Venezia la chiamata per l'imminente mobilitazione nazionale per spronare il governo. Abbiamo intenzione per il mese di febbraio di mettere in campo questa mobilitazione Grazie a tutti.